La Galleria Cesaronica sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è stata riaperta al traffico dopo il completamento dei lavori di ripristino strutturale, effettuati da ANAS. L'intervento, che ha avuto luogo nel comune di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ha restituito la funzionalità della galleria, consentendo il transito continuo tra Norcia e Ascoli Piceno per autovetture e veicoli leggeri, attualmente vietato il transito ai mezzi pesanti, a causa dei lavori in corso sui viadotti lungo la stessa tratta. La Galleria, lunga 1150 metri, aveva subito gravi danni a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la zona nel 2016 e nel 2017. I lavori, iniziati nel marzo 2021 dopo un'accurata fase di progettazione e autorizzazione, hanno richiesto un investimento totale di circa 27 milioni di euro. La Galleria era stata chiusa dallo scorso 30 settembre per consentire l'esecuzione degli ultimi lavori, che hanno incluso la realizzazione della pavimentazione. In futuro, ANAS prevede di realizzare ulteriori interventi di ammodernamento, che riguarderanno anche gli impianti tecnologici e i sistemi di sicurezza della Galleria.